Continua il duro lavoro di prevenzione ed intervento del servizio antincendio boschivo regionale dell'azienda Calabria Verde che soprattutto giovedì scorso 20 agosto è stato impegnato in un'intensa attività in tutte le cinque province, in particolare gli incendi gestiti complessivamente nella giornata sono stati 119, di cui 40 nella provincia di Cosenza, 17 nella provincia di Catanzaro, 30 nella provincia di Reggio Calabria, 17 nella provincia di Crotone, 15 in quella di Vibo. Di questi 19 sono stati gli incendi che hanno interessato il bosco, ma quello che ha impegnato maggiormente le sale operative sono stati gli incendi di interfaccia, vale a dire gli incendi che hanno lambito insediamenti civili. Gli incendi di interfaccia gestiti nella giornata sono stati quattro, due di questi hanno richiesto l'intervento di molte forze per il contenimento e il successivo spegnimento. Il primo ha interessato il territorio del comune di Bisignano, dalle ore 13.55 di giovedì scorso fino alle ore 4 del 21 agosto. Per domarlo è stato necessario l'intervento di due mezzi aerei della flotta di Stato, un elicottero che ha eseguito 22 sganci e un Canadair 9, diretti da un direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, oltre che da un autobot e una squadra di Calabria Verde, impegnata anche a un autobot e dei volontari di Luzzi convenzionati con Calabria Verde. Oltre che una squadra di vigili del fuoco, vista la necessità di rifornire velocemente l'acqua, i mezzi Haib, è stata inviata sul posto in supporto un'autocisterna di 9.000 litri della protezione civile regionale. Ma l'incendio che ha tenuto in tensione per tutta la notte, le sale, la struttura Haib regionale è quello interessato il comune di Ricadi, in provincia di Vivo Valencia. L'incendio era stato segnalato alle 17 del 20 agosto, inizialmente il luogo, non si è mostrato particolarmente insidioso, ma successivamente le condizioni sono peggiorate tanto da richiedere l'invio del personale dei vigili del fuoco del comando di Vivo Valencia. Il momento più critico si è registrato alle 21.30. Il DOS del Consorzio di Bonifica ha inviato una direzione dello spegnimento e ha comunicato al personale della sala operativa unificata la situazione che è molto critica. l'incendio vasto su più fronti della zona e ci sono delle abitazioni e anche attività turistiche. A quel punto gli operatori in sala, in costante collegamento telefonico con i responsabili, hanno inviato sull'incendio tutte le risorse disponibili ed in particolare tre squadre con autobotte, tre con pick-up e due squadre dei vigili del fuoco, coinvolgendo complessivamente 40 unità, oltre che un ulteriore DOS di Calabria Verde.